ore 9 del mattino mola udace cosa è successo sono iniziate a circolare delle foto sul web sui social di tre migranti che facevano il bagno sul lato destro del molo udace e poi hanno fatto il bucato sostanzialmente si sono spogliati hanno lavato tutto quello che avevano sugli zaini hanno messo a stendere le cose sul molo udace dopo aver lavato la roba in acqua di mare eccoli qui arriviamo sul posto mentre uno dei tre ragazzi si sta ancora rivestendo poco prima il passaggio della polizia che ha chiarito ai ragazzi che non è possibile lavarsi in quella situazione men che meno i propri vestiti siamo appena arrivati nel primo giorno non lo sapevamo da dove arrivate arriviamo dall'afghanistan questo è il nostro primo giorno qui siamo arrivati dalla croazia non sapevamo del divieto volevamo solo fare una doccia e lavare i vestiti sono state giornate dure di difficile arrivate dai campi profughi in bosnia no direttamente dalla croazia quando siamo arrivati qui ho visto il posto mi è piaciuto quindi abbiamo deciso di sederci e lavare i vestiti perché erano molto sporchi non sapevamo dove poterlo fare e ora dove andrete non lo so non lo so ora andiamo dalla polizia a chiedere asilo per andare in qualche posto di accoglienza il viaggio è stato duro difficile si lo è stato siamo arrivati tempo fa ma poi dalla croazia abbiamo dovuto marciare a piedi ci abbiamo messo tre giorni siamo arrivati stamani pensavamo che questo posto fosse una piscina ma la polizia ci ha detto di no e ora ce ne andiamo ora andate alla polizia si certo ora andiamo alla stazione di polizia per capire se ci mandano da qualche parte a dormire e anche a chiedere asilo si ora andiamo e credo che chiederemo l'asilo grazie